C'erano troppi, troppi... Allora, sei tipo a spirale che rientra... Spirale? Sì, faccio insieme... Cosa che rientra? Belli morbidi! Potevi fare di tutto, puoi fare un figlio, non puoi fare... Altri esempi non ti avevi ricordato... Eh, una fantasia... A me è venuto in mente quello... A me è venuto a mettere il sigarno, eh? Mi stavo dicendo... Asaltate a pensare... Io vorrei essere... Che io oggi... Che non avevo visto quella notte presto dormire... Ah! Io andavo già più lì... No, poi a stare a casa del lavoro... Cosa è con l'altra? Perché... Io non avevo mai avuto comune... Ma come mai tutto è il rosso, queste magliette? Beh, il rosso è vero... Dai, il giallo... Eh, perché il giallo... Dovevi scegliere... Ma lì si deve essere... Io si metto il rosso... No, c'è andato... C'è un nome da scegliere... Giallo, rosso... Signor, lo stai avrei prego... Lo conoscano ieri... Lo conoscano ieri... In San Martino... Però io ero rosso già... Secondo me non è messo... C'era un po' povere... Ah, ecco, in cec'è il giallo... Ne sa quei già... Ed è quello delle lacoste, no? Ma, ti se ricordi... Non mi vuoi vedere... Ma, ti dico... Ma, non io ne vengo... Non mi vuoi vedere... Ma, che mi vuoi vedere... Ma, non mi vuoi vedere... Allora, lei... Vogliamo... Così, come ti lavorano? Ciao!